beatrice qual è questa spiegazione visto che ce l'hai ce lo puoi spiegare perché ti sei imbellita anche a me e pura fiordaliso esatto non puoi lasciarci così ma devo dire la verità credo che anche quando l'ho detto non sapevo bene che cosa volessi dire l'ho detto giusto per uscire dall'imbarazzo effettivamente so che dopo il reset hanno detto adesso sei più gioiosa dopo che ho avuto la storia con giuseppe ma io vorrei sprofondare per un attimo con la delicatezza che mi contraddistingue nell'imbarazzo alla fine è successo oppure no non è successo nulla è impossibile come si fa no non è successo ci avete fatto sognare per niente noi abbiamo sognato veramente finalmente accaduto ma forse un bacio ma forse no alfonso no 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 neanche un bacio sì bacio sì anche più di uno direi bene bene comunque al di là di questo al di là degli scherzi o della realtà fatto sta che voi siete comunque una coppia forse la prima coppia che senza farsi giustamente problemi si è lasciata andare alle proprie emozioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti